Tramite una lettera inviata al presidente del Tribunale di Pescara Angelo, Bozza e all'avvocato Romolo Reboa, il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha comunicato la disponibilità del di Castero ad intervenire, ponendo in essere quanto necessario per consentire il corretto svolgimento delle attività processuali, assicurando la celebrazione del processo rigopiano il 10 luglio prossimo, impedendo così l'ennesimo rinvio. La lettera del ministro fa seguito alla richiesta avanzata dall'avvocato Romolo Reboa, difensore di alcuni familiari delle vittime, il quale ha osservato come l'aula A, sinora utilizzata per le udienze, non può garantire il rispetto delle distanze sociali che impone l'emergenza Covid-19, suggerendo il ricorso ad esperienze passate, come accaduto di recente per il caso della nave di Costa Crociere, quando il processo fu trasferito in un cinema. Da qui la proposta di poter ricorrere all'utilizzo di uno dei tre palazzetti dello sport di proprietà comunale. Quali possibili soluzioni? In seguito alla mia iniziativa sono subito pervenute ai difensori le comunicazioni ufficiali del rinvio dell'udienza al prossimo mese di luglio, a dimostrazione che essa ha trovato un immediato riscontro sensibile nella magistratura, ha commentato l'avvocato Reboa. La lettera del ministro Bonafede è la dimostrazione che se vi è la volontà politica in Italia è possibile muovere qualcosa. Ora attendo di conoscere la posizione del sindaco di Pescara, dato che se il presidente Bozza riterrà che non è possibile risolvere il problema allestendo l'aula magna Emilio Alessandrini, credo che gli spazi comunali siano una soluzione a basso costo più adeguata.